Il cedimento del ponte sul torrente Salinello tra Santomare e Bellante rende ancora più attuale il tema del rischio idrogeologico, della montezione di strade, ponti e fiumi. A tal proposito di grande attualità, l'incontro dei giorni scorsi al quale ha preso parte il presidente della provincia dell'Aquila Angelo Caruso sulle competenze delle aste fluviali, il cui passaggio è rimasto sospeso. La provincia però per quel che riguarda la montezione dei ponti è a posto con uno stanziamento importante. Noi abbiamo un onere di trasferire aste fluviali ai comuni che rifiutano ovviamente questa consegna. Quindi il primo aspetto è questo, di ordine di competenze perché poi ognuno dovrà sorvegliare, attivarsi e far quant'altro. Noi per quello che ci riguarda sui ponti abbiamo messo in campo un programma straordinario di 16 milioni di euro per 31 interventi sui ponti che interessano le strade della provincia dell'Aquila. Quindi tra quella che è la definizione della coda di questo anno e quello che sarà il programma del 2023 crediamo di mettere in sicurezza quasi tutti i ponti della nostra provincia. C'è poi anche una buona notizia che dalla provincia dell'Aquila è una sorta di primato. Per la prima volta si è approvato il bilancio preventivo entro la fine dell'anno. Abbiamo raggiunto un obiettivo formidabile. Normalmente questo adempimento interveniva durante il corso dell'anno o addirittura in qualche caso verso la fine dell'anno. Un bilancio preventivo che significa la vita tecnica, economica e strategica dell'amministrazione provinciale che quest'anno per la prima volta viene approvato entro la fine dell'anno. Quindi insomma in modo straordinario ma anche con una consistenza finanziaria notevole che poi avremo modo di sviluppare prossimamente. Però oggi segniamo un traguardo straordinario, qualcosa che ci riempie di orgoglio e fa sorgere il rating della provincia dell'Aquila in vetta alla classifica nazionale.